Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, ciclicamente e molto frequentemente vediamo l'atteggiamento di persone di sinistra che invece che parlare di cose concrete, di argomenti, quindi odiano denigrando il centrodestra. Quindi no argomenti ma offese. De Benedetti su Giorgia Meloni dice che dimostra, la Presidente del Consiglio dimostra demenza. Paola Ferrari, che è la persona che ha sposato il figlio, dice mi dissocio totalmente da quello che ha detto De Benedetti rivolto alla Premier Meloni. L'avversario politico va rispettato. Beh, sì, l'avversario politico va rispettato se lo consideri un avversario. La sinistra e i suoi esponenti a vario titolo considerano l'avversario politico un nemico da offendere perché non sono capaci con le parole e allora utilizzano questo metodo da sempre. De Benedetti dice che sull'immigrazione non è successo nulla al Consiglio europeo. Questo è vero. E lui aggiunge e questo mette l'Italia è in posizione di debolezza. La posizione di debolezza. L'Italia non ha ottenuto nulla. L'Europa sull'immigrazione in Italia non frega assolutamente nulla. L'Italia non è in posizione di debolezza ma se l'Italia non vuole fare il blocco navale si sorbirà chissà magari tra 500.000 e un milione di clandestini quest'anno. Ma all'Europa non frega assolutamente niente. Non è che l'Italia va in posizione di debolezza. Semplicemente è tutta un'altra storia. E poi aggiungere Benedetti vuol dire che basta darle niente che lei è soddisfatta. La Meloni dice di aver avuto grande successo in Europa. In realtà in Europa non c'è stato nessun successo ma la Meloni lo dice per propaganda elettorale. Visto che non vuole fare niente per quanto riguarda il blocco navale perché ha altri obiettivi, vuole vincere le elezioni europee, racconta di grandi successi europei ma in realtà non ci sono ma l'elettorato lo sa benissimo. Ma secondo De Benedetti la premier che fa propaganda raccontando di grandi successi in Europa dimostra demenza. No, non è vero. Questo dimostra che il governo come qualunque partito, qualunque coalizione fa propaganda per il proprio elettorato. visto che una delle promesse principali era il blocco navale subito ma non lo vuole fare per altri suoi obiettivi personali, racconta all'elettorato di grandi successi che l'Europa ci sta ascoltando, che siamo al centro dell'attenzione, che tutti parlano di noi, che hanno capito che noi vogliamo delle risposte sui migranti ma in realtà non c'è nulla di tutto questo. si chiama propaganda elettorale non demenza di una persona. De Benedetti, editore del quotidiano domani, parlava così ieri della Meloni defilendola una figurina. Nel corso del dibattito con la segretaria del PD Schlein, organizzato proprio da domani, ha anche aggiunto rivolto al governo nella destra, questi sono prima di tutto degli incompetenti, poi sono in gran parte degli ignoranti e poi sono delle persone che non capiscono quello che dicono, dice De Benedetti. Il giorno dopo Paola Ferrari, giornalista televisivo che ha sposato il figlio di Carlo De Benedetti, Marco aggiunge voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall'ingegner Carlo De Benedetti che è il nonno dei miei figli perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del presidente del consiglio in modo particolare ma non solo di una donna. Dice la giornalista, con la famiglia di mio marito ho un rapporto molto distante da parecchi anni ma certe cose mi feriscono, l'avversario politico va sempre rispettato. Non sono convinto che l'avversario politico vada sempre rispettato, ci sono casi nei quali l'avversario politico fa delle cose per i quali può essere anche non rispettato, ma non è questo il caso. Di base l'avversario è un avversario e non è un nemico. Naturalmente quello che diceva per esempio Bonaccini, che poi non è stato eletto come segretario del Partito Democratico, era proprio questo, che l'avversario è un avversario, non è un nemico, non è una persona da offendere, non è un nostalgico, anche se poi magari lo è tu. Dici di no comunque. Perché il piano dello scontro politico deve essere sui fatti, sulle proposte, su una visione dell'Italia, non sulla denegrazione dell'altro. Però la sinistra ci ha vissuto con questo. È da quando è sceso in campo Berlusconi che hanno cominciato a parlare di sono tornati nostalgici del ventennio. Prima la reincarnazione del dittatore era Berlusconi, poi Salvini un gerarca, adesso la Meloni è tornata a essere la reincarnazione al femminile del dittatore. Hanno parlato di pericolo per la democrazia, pericolo per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, che la Meloni chissà cosa avrebbe fatto e detto dal balcone di Palazzo Venezia. Ovviamente erano tutte bagianate. Si vede che l'elettorato di sinistra ha bisogno di sentire queste cose per essere aizzato contro una destra. Una sinistra che non ha argomenti ha bisogno di questi pseudo argomenti per attaccare quello che è il governo. Quindi la giornalista ha detto quello che dovrebbe essere, ma da sinistra spesso la posizione è quella di questo De Benedetti che è più facile per loro piuttosto che pensare a delle argomentazioni valide, è più facile fare un insulto alla fine. Non devi neanche stare a pensare troppo. Dici la prima offesa che ti viene in mente perché argomentare risulta molto più difficile e complesso. Ci vuole un ragionamento per argomentare, per offendere sono capaci tutti. Diventano così degli odiatori, non di internet, ma degli odiatori della politica. Grazie a tutti e arrivederci a presto.